No, perché sono stati revocati i capanni a lago, quelli acquatici, che non avevano le distanze sufficienti dalla riserva, però ci sono ancora gli appostamenti fissi a terra che anche quelli moltissimi non hanno le distanze dalla riserva, secondo la norma. Il nostro obiettivo è quello di fare la revoca di tutti gli appostamenti a terra che non sono a norma, che non hanno le distanze e quindi continueremo la nostra battaglia su questo. Nella torbiera non si può cacciare, questi appostamenti fissi sono all'esterno, nel senso che non hanno le distanze a norma previste dalla legge, dalla riserva e quindi noi vogliamo che questi non ci siano e quindi continuare alla Commissione europea e fare in modo che la procedura di inflazione diventi proprio una condanna se non vengono tolti questi appostamenti fissi.